Cosa credi di fare, tuoi? Non puoi prendermi, ho vinto. Entro un'ora, ogni singolo, lurido criminale brucerà, e poi penserò ai tuoi alleati. Marcerò fino a Villa Wayne, trascinerò il tuo fedele maggior dollo per le trade di Gotham, e lo costringerò a raccontare al mondo il tuo fallimento. Il mio esperimento con Arcapsidi è un successo, e tu, tu mi pregherai in gilocchio di aver saluto. Ponte di osservazione. Coprite la porta dell'ascensore. Sì, signore. Quando sia preso... Coprite la porta... Ci viennes la porta... Semuestri è stato fosso e ritrovato. Grievo! LHH! Oijke! backo! Ehm! Oh Versagli multipli acquisiti e neutralizzati. Versagli multipli acquisiti. Parlami. Base 1 completata, signore. Il numero delle vittime nelle zone principali supera le previsioni. Bene. Concentratevi sul museo. Voglio che la fortezza di Cobblepot sia rasa al suolo. Affermativo, Professor Strange. Bombardamento iniziale del museo completato, signore. Versaglio non distrutto. Sono molto denso. Preparatevi a sparare ancora. Voglio quel museo distrutto, capitano. Ti resta poco tempo. Strange sta uccidendo tutti laggiù. Sono quasi in cima. Lo fermerò. Lo so. Come è riuscito a fare questo? Ha ucciso centinaia di persone, ma ha carta bianca da parte della città. È una follia. Qualcuno lo sta aiutando. Non appena avrò fermato il protocollo 10, scoprirò chi è. Missile aggacciato. Struttura colpita. Comando Tiger, siamo alla torre. Nessun segno di battaglia. Continuate le ricerche. Affermativo per lo striamo la torre. Nessun segno di battaglia sulla torre. Nessun segno di battaglia sulla torre. Spostate le ricerche nelle sezioni inferiori. Affermativo, comando. È il nostro momento di gloria. Possiamo distruggere tutto ciò che rovina questa città. Batman è laggiù! Il bersaglio è diretto qui! Rapporto. Contatti? Rapporto. Contatti? Non deludetemi. Batman è il comboio. Fermatemi. Ecco la linea di Piro. Resta sul bersaglio. Non fermo. Dispositivo sconosciuto trovato. Contatto. Trovato a dispos... Sono il futuro di Gotham. Sono il suo nuovo leader. Bersaglio è ancora a segno. Dovete fermarlo subito. Batman non deve lasciare questa stanza a vivo. Vittima. Alla mia posizione. Non siete sole, guardie. Batman è entrato nella stanza. Rapporto. Contatti? Sì. Con il protocollo 10 ho ridefinito il futuro di questo schifo di città. E presto rovinerò anche te. Dispositivo sconosciuto trovato. Contatto trovato a dispos... Ricordate l'annestramento. Fermatelo! Non lasciate che Batman scappi. Mi avete capito? Bersaglio è ancora assente. Ti ho studiato. Ho imparato fino alla tua ultima tecnica. E ora io, Hugo Strange, ti ho finalmente sconvitto. Il bersaglio è diretto qui. Il bersaglio è diretto qui. Bersaglio perso. Andiamo a verificare. Il bersaglio usa fumogeni, sto pensando di rintracciarlo E' nella stanza, Batman è lì con voi Attento alla linea di tiro Resta sul bersaglio, non perdere So che sei qui, Batman, è troppo tardi E' lì, Batman è lì Siete ciechi, Batman è laggiù Basta, è qui Eliminatelo O mi farò soffrire tutti Il bersaglio è in diretta qui Mi senti, Wayne? Ma c'è Cerca di capire che non puoi sconfiggermi Io sono intoccabile Sono migliore di te, Wayne Non hai vinto Non puoi vincere Io, Hugo Strange Sono il tuo successore Ho salvato Gotham Oracle, chiudi questo posto Con piacere Hai rovinato tutto Levami le mani di dosso Guarda cosa hai fatto E' magnifico Non credi? Sei finito, Strange Ho molti amici potenti, Batman Questo è solo l'inizio Non puoi fermarmi Presto comanderò eserciti Oltre ogni tua comprensione Sono riuscito Dove persino Batman Ha sempre fallito Gotham ringrazierà per sempre Hugo Strange Il tuo compito qui è finito Professor Strange Perché? Ho fatto tutto quel che volevi Sicuro? Hai dimostrato chiaramente Che Batman è meglio di te Lascialo morire, Detective Era la tua marionetta, Raj Perché? Hai detto che avrei preso il tuo posto Questa era La nostra visione Non la tua Non abbastanza Ma Quando mi hai portato l'identità di Batman Ti ho permesso di provarmi il tuo valore Fornendoti ogni genere di risorsa per il tuo piano C'eri quasi Ma alla fine hai fallito Sta per morire, Raj Dobbiamo portarlo da un medico Ora Fa come vuoi, Detective Per me lui è già morto Sono così vicino Mi serve soltanto più tempo Ora è tardi Hai già avuto la tua possibilità È una buona giornata, Detective Buona? La gente sta morendo Il mondo non li piangerà Che ti importa? Ecco la mia opera Certo hai sconfitto Strange Ma questo Questo è solo l'inizio Vieni con me Noi ripuliremo il mondo intero Mai Ti sbagli, Raj Sei diventato ciò che hai sempre odiato Quindi io ti fermerò Ne dubito Computer Attivare Protocollo 11 Che stai facendo? Password Wayne No Fuori di qui No Fuori di qui No No Bruce, tutto ok? La torre è esplosa. Ho notato. Grazie al cielo, stai bene. Dietro a Strange c'era Raj al Ghul. Questo posto fa parte del suo piano. Stai scherzando? Dov'è ora? Diciamo che gli servirà una visita a un pozzo di Lazzaro. Salve! C'è qualcuno là? Ci risentiamo dopo. Ci sono novità. Ciao, Batman. So che puoi sentirmi. T'ho disturbato in un brutto momento? Tenevo ti fossi scordato del povero vecchio me. Dai un'occhiata alla tua ragazza. Oh, come puoi vedere, quel suo bel cervellino rischia di finire tutto spruzzato su questa telecamera. Ignoralo, mia amata. Lascialo morire. Oh, che romantico. Peccato proprio che non mi sia mai sentito meglio. E sappiamo entrambi che non puoi davvero ignorarmi. Vero. Perciò ascolta, Batman. Sto preparando uno spettacolino per te. Sarà davvero imperdibile. Roba da grandi stelle del cinema. Ma ti conviene sbrigarti. Se ci metti troppo, l'attrice protagonista potrebbe trovarsi morta nel camerino. Tutte le unità aeree a rapporto. Cessare l'attacco e tornare alla base. Ripeto, tornare immediatamente alla base. Ripeto, tornare immediatamente alla base.